ottavo giorno della novenna a maria assunta in cielo nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amén o padre di misericordia datore di ogni bene noi ti ringraziamo perché dalla nostre istirpe umana hai eletto la vergine maria ad essere madre del tuo figlio fatto uomo ti ringraziamo perché l'hai preservata da ogni peccato l'hai riempita di ogni dono di grazia l'hai congiunta all'opera di redenzione del tuo figlio e l'hai assunta in anime corpo al cielo ti prego donami questa grazia ti prego per sua intercessione di poter realizzare la mia vocazione cristiana di crescere ogni giorno nel tuo amore e di venire con lei a trovare per sempre la felicità nel tuo regno beato amico ave o maria piena di grazie il signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amico o maria assunta in cielo in corpo e anima prega per noi amico ave o maria pipe per noi amico 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 Grazie a tutti.